Ogni tanto mi si chiede, ma dove va l'editoria esattamente in questo periodo, in questo periodo storico? Io non so se ho una risposta, soprattutto non so dirvi dove va la grande editoria, anche se un'idea ce l'ho, però posso parlarvi della piccola editoria, dell'editoria indipendente e dell'editoria self, se volete chiamarla così, perché sto notando in questi ultimi tempi che un sacco di colleghi che anni fa pubblicavano con l'editoria classica, l'editoria tradizionale, stanno riconvertendo tutti i loro progetti in un'ottica indipendente, il che vuol dire o self, ripeto, se volete usare questa parola cercate però di non farlo sempre in senso dispergiativo, per questo io parlo di indie, oppure con dei microeditori molto molto settorizzati, molto specializzati e che in un certo senso ricalcano le modalità dell'indie, della pubblicazione indie e lo fanno con professionalità, così come gli scrittori indie self di cui faccio riferimento io si muovono con altrettanta professionalità, non parliamo degli scappati di casa. E dove vanno? Dove va questo genere di... dove vanno questi colleghi che si rivolgono a questo genere di pubblicazioni? Vanno in una direzione precisa, ovvero quello del nuovo concetto di proporsi come autori a un pubblico. Ed è tutto organizzato da soli, praticamente. Ci si sta svincolando da una catena che è quella della distribuzione che più e più volte in questo anno ha dimostrato grossi limiti, grossi favoritismi nei confronti di alcune case editrici penalizzando tutte le altre e soprattutto non ha mai messo in luce nulla di diverso, nessun fenomeno, nulla di nuovo nel panorama. Quindi abbiamo sempre visto un riproporsi di titoli, autori, più o meno sempre gli stessi. Io non voglio dire che abbiano dei santi in paradiso, però ogni tanto lo penso. Oppure se si tratta di autori esteri, sono quegli autori che da anni qui vendono in qualsiasi ristampa e quindi vengono continuamente riproposti. Voi anche in rilegature di pelle umana, fra un po', però sono sempre quegli autori. Oppure, oppure, vediamo che l'editoria tradizionale si è specializzata nel proporre titoli nuovi, sì, ma di quei generi che apparentemente sono gli unici che vendono qui da noi, ovvero lo young adult, i romance, questi generi con tutti i vari sottofiloni del caso. Mentre c'è uno stato di abbandono, parlo della grande editoria, attenzione, per quella che è la narrativa di genere adulta, horror, fantasy, fantascienza. Se si accettua, lo ripeto, la riproposizione, la ripubblicazione dei grandi classici, di cui però oramai abbiamo tutte le edizioni possibili. Se invece un autore vuole proporre un suo testo che sia valido, io lo ripeto sempre, valido vuol dire che sia editato da esterni, quindi pagando, con una buona grafica, investendo sul marketing, investendo su una promozione social fatta bene, ecco, ora un autore deve per forza o quasi rivolgersi a uno di questi due metodi, o il self-publishing fatto in modo professionale, o la micro-editoria di nicchia, che lo ribadisco è una sorta di self-publishing, però con l'etichetta di editore. E non lo dico come offesa, va da sé, non è che dicendo che questo genere di piccoli editori sono tipo i self, non voglio sminuirli, voglio dire che il loro modo di operare è libero da ogni vincolo e quindi anche da quello della distribuzione. Il che cosa comporta, venendo al dunque, è che questi autori che hanno scoperto l'autoproduzione o comunque questa produzione saltando un comparto della filiera editoriale, stanno scoprendo che i libri si vendono, guarda un po', se tu ti rapporti direttamente col pubblico, proponendo dei buoni prodotti, comunque il lettore ti trova, che sia solo online, quindi passando direttamente da Amazon e da store simili, che sia da fiere che non appartengono al grande circuito, quindi piccole fiere che sempre più spesso accettano micro-editori e autori indipendenti, o addirittura organizzando eventi per conto proprio, ovvero un autore si può organizzare il suo evento, il suo firmacoppio a una pizzata, a un aperitivo, in un parco d'estate e coinvolgere tramite i social, i lettori vecchi e nuovi, facendo anche amicizia, creando un bel legame e vendendo libri, proponendo libri, i libri che vuole, senza dover venire a patti con la distribuzione o con un editore che non ti paga e con tutte queste cose qui, quindi si può veramente, o meglio si può, tanti stanno imparando che si devono saltare certi passaggi, se si vuole proporre il proprio prodotto partendo dal fatto che deve essere, ma io lo ribadisco cento volte in ogni video, deve essere un prodotto fatto degnamente, non a livello contenutistico perché tutto è soggettivo, ma a livello proprio di confezione, quindi di presentabilità, di editing, ok? Quindi l'editoria sta cambiando, sì, l'editoria è già cambiata, sì, finalmente chi capisce questo processo, chi lo studia, chi lo impara, sta anche capendo che forse, forse c'è uno spiraglio per, perdonatemi se lo butto sui soldi, ma guadagnare attraverso la scrittura, il che vuol dire dare una dignità al proprio lavoro e quindi guadagnare attraverso la scrittura vuol dire anche usare quei soldi che si ricavano per investire su altri progetti di scrittura oltre per pagarsi le bollette, quindi investire sul marketing, sullo sviluppo di canali social o video che vanno di pari passo oramai con la carriera dello scrittore, sull'editing, sulla grafica e su tutto quanto. Quindi c'è questo cambiamento in atto, qualcuno, tanti cominciano a capirlo e cominciano a intraprenderlo, ovviamente poi c'è molta competizione, quindi anche qui spicca chi lavora bene, ma non c'è una competizione feroce, nel senso che secondo me c'è spazio per tutti, c'è spazio per tutti quelli che vogliono lavorare bene, vogliono cooperare e vogliono creare una rete virtuosa che sia diversa appunto da quella della vecchia mastodontica e anche elefantiaca, nel senso peggiore del termine, editoria, che trovate nei grandi store, ma che quanti libri vende, perché i dati dell'istat ogni anno sono implacabili e sicuramente quegli scrittori, quei grandi scrittori che vedete sui bancali delle grosse librerie non campano per le royalties di quei libri, tra neanche rarissimi casi. Invece, come io ho sempre detto o come ho sempre cercato di spiegare, uno degli obiettivi dello scrittore dovrebbe essere quello di tentare di campare almeno in parte con gli introiti della sua arte, di ciò che scrive, che sia intrattenimento, cultura, saggistica, quello che volete. Siamo ancora lontani da questo, ma pian piano, grazie ai mezzi del web, ci stiamo arrivando, ci stiamo arrivando e chi vuole far finta di non vedere che ci sia questa rivoluzione nell'editoria è perché probabilmente ha tutti gli interessi affinché le cose non cambino e restino uguali. Però, e chiudo, c'è da dire che anche molti editori medi si stanno abituando a questi nuovi paradigmi, voi per convenienza, voi per convinzione, voi perché hanno capito che è il momento buono per tornare a essere un po' coraggiosi, a proporre titoli diversi, a riempire le nicchie e quindi vediamo sempre più iniziative dal basso che, ripeto e chiudo, saltano alcuni passaggi della filiera che oramai sono malatissimi e che non funzionano più. Quindi, secondo me, siamo a un momento interessante del processo che riguarda l'editoria italiana e chiamarla piccola è forse giusto, ma non è per questo riduttivo. Piccola forse nei numeri, ma numeri di qualità, ed è meglio avere piccoli numeri costanti, quindi un parco lettori costante e fedele che non tanti lettori casuali, i famosi che leggono un libro o due all'anno e che poi non ti riconoscono nulla, non ti fanno una recensione, non ti seguono e sostanzialmente dimenticano anche più o meno cosa hai scritto perché hanno in mente tutt'altro. Questo è il mio punto di vista, quindi chiudo con una domanda. Anche secondo voi, se siete un po' dentro il settore o se siete degli osservatori attenti, anche secondo voi l'editoria sta cambiando e con l'editoria, ripeto, metto dentro anche il self, fatemelo sapere nei commenti. Magari mi sbaglio io, magari è una mia illusione, ma spero proprio di no. Vi saluto e vi auguro buone letture.